Vi pare un tal gioco, credetemi, è meglio non giocarlo con me, perché, miei cari, teatronio è un poco a tutti a farlo. Il teatro e la vita non sono la stessa cosa, non sono la stessa cosa. E se la sua paliaccio sorprende la tua sposa, col bel galante in camera fa un copico sermone, poi si calma o dar rendersi ai colpi di bastone, ed il pubblico applaude ridendo allegramente. Ma se ne dà sul serio sorprendessi altra mente, finirete la storia come vero, io vi parlo. Un tal gioco, credetemi, è meglio non giocarlo. Ma se ne dà sul serio sorprendere, E se si trovi dai a tuoi. Il me è un'espetta da un'espetta. Grazie a tutti